Quest'anno abbiamo immaginato per l'Assemblea di Unimed di usare come idea di fondo un numero, il numero 20, perché ricorrono i 20 anni di Unimed, l'Unione dell'Università del Mediterraneo, che è stata costituita nel 91 e che quindi oggi festeggia 20 anni di attività lungo tanti percorsi, progetti, iniziative che hanno legato insieme le università ai giovani del Mediterraneo. Alla presenza di diversi rettori, diversi delegati dell'università e quest'anno per la prima volta anche di una rappresentanza di studenti abbiamo organizzato workshop, seminari, una conferenza internazionale e comunque anche vari momenti di networking, di incontro, di studio, di divertimento se vuoi. e abbiamo avuto l'occasione e la possibilità di confrontarci su temi importanti, quali quelli della costruzione democratica delle istituzioni del Mediterraneo. Domani avremo ancora altri due workshop, uno sul turismo, uno sulla progettazione e la cooperazione internazionale. A giovedì abbiamo invece fatto due workshop, uno sul quality assurance, la governance, l'insegnamento universitario ed uno sui trasporti e la ricerca nel settore dei trasporti e la logistica. Tutti questi workshop uniti alla giornata di oggi, alla conferenza di oggi, ci hanno dato l'opportunità di confrontarci non soltanto sui temi del dialogo e della cooperazione culturale, ma anche su temi concreti come appunto i trasporti, il turismo, la logistica, eccetera. Quindi su idee di cooperazione che possono effettivamente aiutare i giovani del Mediterraneo a trovare una soluzione al problema del mondo del lavoro, al loro inserimento nelle loro società e anche a favorire soprattutto la mobilità del giovane del Mediterraneo. Da questa assemblea è stata anche lanciata l'idea di una petizione nei confronti della Commissione Europea affinché adotti un programma Erasmus per il Mediterraneo. La petizione è consultabile online sul sito di Unimed, unitrattinomed.net ed è aperta a tutte le persone di buona volontà che hanno interesse a immaginare la costruzione di una rete euro-mediterranea di studenti appunto attraverso la mobilità.